buongiorno a tutti e buona festa di maria assunta in cielo buon 15 agosto a tutti oggi vi voglio consegnare affidare con tutto il cuore nel cuore di maria nelle mani di maria nelle braccia di maria maria è la nostra mamma e lei ha un cuore attento degli occhi attenti e ci guarda noi dobbiamo sempre invocarla la dobbiamo sempre amare la dobbiamo sempre chiamare noi dobbiamo essere come l'apostolo giovanni che dobbiamo accoglierla in casa nostra e dirle vieni madre vieni in casa mia vieni nella mia vita vieni perché c'è posto anche per te nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen io vi abbraccio con tutto il cuore vi ricordo per chi è libero oggi da impegni che alle 15 preghiamo la coroncina alla divina misericordia e da domani vivremo una settimana di preghiera per i defunti tutte le nostre preghiere saranno per i defunti io tutte le mattine metterò sulla mia pagina facebook don francesco cristofaro sul mio profilo instagram don francesco cristofaro un post dove vi invito a mettere le vostre intenzioni per i defunti a tutti di cuore buona festa